A pochi metri dal Teatro Verdi e dalla Villa Comunale di Salerno, il ristorante Viaporto Salumeria e Cucina vi aspetta in un ambiente sobrio e raffinato, in Viaporto numero 5. Un killer scappato di prigione, ricercato da un agente segreto e da una criminal profiler, un triplice omicidio senza colpevole, un virus che potrebbe distruggere il web e la vita di un cronista che finisce in pericolo, e la complessa ed intrecciata traccia di Tango Down, il libro thriller scritto dal salernitano Gianluca Durante, 36enne giornalista e scrittore di successo, che in questi giorni sta presentando in giro il suo ultimo lavoro, fresco di stampa. Parte da due storie parallele, ovvero un triplice omicidio su cui indaga un giornalista di cronaca nera e poi dall'altra parte invece la fuga di un killer da un penitenziario di massima sicurezza, due storie che naturalmente poi si intrecceranno tra loro. È stato difficile scrivere o è stato più difficile farselo pubblicare? Il lavoro di scrittura è sempre molto complicato, è un lavoro vero e proprio, bisogna mettersi lì seduti alla scrivania ogni giorno, quelle 5, 7, 9 ore, qualcuno addirittura si lega, perché è davvero difficile rimanerci qua seduto. È un lavoro vero e proprio, poi sulla questione dell'editoria è chiaramente un settore, un campo molto complicato e nel mio caso ho avuto sia la fortuna all'inizio di vincere un premio, quello tedeschi, di essere pubblicato con la Mondadori e poi di trovare un editore che ha creduto in me. Adesso sei impegnato in un tour di presentazione, sarà anche qui a Cava dei Tirreni? Sì, il prossimo passo dopo l'anteprima che c'è stata qualche settimana fa a Salerno Letteratura sarà appunto a Cava dei Tirreni, al Roda Viva, venerdì 8 alle 8 di sera. Ci sarà questa presentazione, che è una presentazione molto particolare, perché non ci sarà il classico giornalista o qualcuno che mi presenta, lo farò da solo. Sarà una presentazione teatrale in cui chiederò la collaborazione del pubblico per risolvere un mistero, un'indagine.